Amici dello sportello del cittadino ci troviamo a Taranto nel salotto buono della città in pieno centro Umbertino via d'Aquino ma incredibile a dirsi guardate che immobile, fatiscente, decadente, abbandonato a se stesso. Ripeto in piena via d'Aquino. Guardate ci sono dei pali, una specie di travi che sorreggono, che puntellano le volte e poi balconi assolutamente fatiscenti, erbaccia, vegetazione spontanea e sembra un qualcosa, anzi è, un qualcosa di diroccato. Non so chi siano i proprietari ma mi domando come mai non intervengano e soprattutto perché l'amministrazione comunale a questo punto non intervenga proprio presso i proprietari per rimettere, per dare un minimo di dignità e di decoro al palazzo. In questo modo si deprezza proprio il nostro centro storico. Ma vi vogliamo far vedere il palazzo anche dall'altro lato, dal lato opposto. Ma alle spalle il quadro è ancora più penoso. Sembra quasi di essere a Beirut sotto i bombardamenti. Quindi, insomma, lo dico anche ai proprietari, se l'immobile venisse riqualificato e venisse venduto, i proprietari trarrebbero un grosso vantaggio economico. Forse non ci hanno pensato, ma noi cittadini pretendiamo il decoro nella nostra città. Lo devono fare i proprietari, lo deve imporre l'amministrazione comunale.